Registrare fino a 120 fps con Nvidia App Prima con GeForce Experience io potevo registrare fino a 60 o 100 fps Megabit al secondo erano fino a 60-70 Ora che hanno aggiunto Nvidia App possiamo anche migliorare così la qualità video nella registrazione live E fare anche le clip sul gioco o sullo schermo Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link per scaricare Nvidia App Scarichi così la versione beta, la installi, fai anche l'accesso all'applicazione con un tuo account E prima di andare a configurare così la registrazione riavvia il tuo sistema Una volta fatto, questo è Nvidia La home, i driver, grafica, le impostazioni Tu devi attivare la sovrapposizione Nvidia Che aprirai con Alt più Z Filtri di gioco e modalità foto, l'attivi Attivi tutto Una volta fatto, Alt più Z Il tasto Alt sulla tastiera più Z E questa è la sovrapposizione Sulla rotella qui puoi modificare e configurare i tasti per registrare e salvare le clip Come puoi vedere, salva gli ultimi 3 minuti registrati e metto Alt più F9 O registro, apro la sovrapposizione come vuoi tu Torni indietro Cattura video Prima di fare questo vai su Instant Replay Disattiva l'Instant Replay e andiamo a configurare Risoluzione Full HD Frequenza fotogrammi 120 FPS Megabit al secondo Per migliorare la qualità video Per non farla vedere un po' pixelata, sfogata male Perché se la metti a 10 Non laggerai Non avrai problemi di lag Però la qualità si vedrà malissimo Velocità di trasmissione Io ti consiglio di smanettarci un po' sopra Fare dei test con il tuo PC E vedere qual è meglio per te Io che ho una buona scheda grafica 1660 Super Che è ancora una buona scheda grafica E mi trovo benissimo a registrare Risoluzione 4K Durante il gioco Io metto Full HD 120 FPS Qualità invece Media Alta Metto Personalizzata Registra fino a 20 minuti Quindi questo salva gli ultimi 3 minuti Premendo così Alt F9 Una volta fatto Tienilo sempre attivo Attiva l'Instant Replay Quindi se questo video ti è stato utilissimo Su come registrare fino a 120 FPS E migliorare così la qualità video sui giochi Se hai problemi Commenta sotto al video Al prossimo tutorial Ciao 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 Grazie a tutti.